Ora andiamo a Verona per Vini Italy, a cui partecipa anche l'Emilia Romagna. Emilia Romagna che può vantare una produzione in crescita e l'aumento dell'export. Elena Achemello. La gente è ancora appassionata all'Ambrosco? È sempre stato piacevole. La gente è un vino molto leggero, piacevole da bere. Perché piace il Sangiovese? Il Sangiovese piace perché è un vino vero, nel senso che esprime una territorialità che è molto apprezzata ultimamente dai consumatori. Il Lambrusco dell'Emilia, il Sangiovese della Romagna, ma anche Pignoletto, Malvasia, Gutturno, vini forse meno noti ma altrettanto apprezzati. L'Emilia Romagna è il Vini Italy di Verona con 400 vini, 200 tra aziende e consorzi e una produzione che continua a crescere di anno in anno. Dal 2009 al 2013 l'aumento sui mercati esteri è stato di oltre il 74%. La nostra regione è forte proprio per questo, che riesce a dare vini importanti che comunque fanno da traeno a tutta la viticultura, però c'è tutt'attorno una serie di possibilità vitivinicole veramente interessanti. È una voce importante anche per l'economia dell'Emilia Romagna il vino. Pensate che quest'anno insieme al Veneto e alla Puglia e alla Sicilia rappresentano con l'Emilia Romagna il 61% della produzione nazionale. Il PIL che produce questo comparto a livello italiano, l'Emilia Romagna comunque dà un contributo importante.